Ciao a tutti, oggi siamo qui con un nuovissimo video Siamo qui con Stefanik, come vede qua Mangia i bei dulciumi E poi c'è Rosanik, eccolo qua Non parla, beh Wow È liger Comunque Cosa stiamo facendo in questo video? Dove andiamo? Cosa facciamo? Da Giggisou Andiamo in partita Comunque qua prima c'era Rotaglie rischiose come ben sapete Buona l'ho levata, vabbè Il motivo qua di Alvin Giggis Ho l'equa Nello shield Cosa? Lo colpo io, voglio cliccarlo io Ma se sei pronto? Che bel quadro! È più bello il quadro però 1 Assolutamente sì 2 3 3 Oddio È morto Subito Le bombe billi Che le vuole E io Aspettate Aspettate Tenete Ognuno se ne prende uno Perché ce ne date tre Non se ne prendi E le bombe billi Non le lanciare Accettino Nemici Dovrebbero attirarli Adesso un nemico Non c'è bombe billi Ok no Troppi rimbalzi Bomba billi ci difende È un chaggo Bomba billi difende Andiamo Oh qua si è ucciso Ha attaccato la bomba billi No qua sono morto Eh perché è un chaggo C'è bombo billi qua Guarda me Da Roma dove sei? Soprattutto Eh muori Ma non si è morto Non mi verso Le quelle macchie Le quelle macchie C'è un po' di billi C'è un po' di billi Cura Rosalek io Wow Oh no Rosalek Rosalek Wow no Madda No dietro Dietro Rosalek Un giornino Stupendo Tra poco andiamo a curare Rosalek Vado che sus C'è una missione di Jigsaw Eh aspetta aspetta ti poti do una taglia e se le luci di in tempo esplodi e mori Perfetto Io Ti metto questa cosa in testo alla skill Proviamo Soprattutto C'è un po' di billi qua C'è un po' di billi qua Ma la mia Ovviamente sempre il show Ma la mia Non c'è un po' di billi qua Non c'è un po' di billi qua Ma la mia Andi come usavamo ragazzi Ma che bello ne usavamo? Allora siamo forti Oggi Che chad Abbiamo sconfitto il boss E' vero Seric Non è vero Seric è stato attirato per tre volte o due volte Perchè è un brand E noi ci va A un prossimo video Ciao